L'attacco è un attacco atomico, c'ho due scugnizi, questo è lo scugnizio a Paris, di cui vede il calcio solo in velocità, il grande Mata. Mi diverti il mio Pitbull! Chihuahua! Potete notare come i muscoli di Pitbull stanno diventando per quelli del mio? Chihuahua! Infatti sono così, raggi, che se lo volo ogni tre se lo volo. Non c'era una battuta, alcune volte un Pitbull è la museruola. Chihuahua! La museruola! Il Mastino, il Pitbull della squadra e l'attentatore... No, è tra che il penale! Chiapro! I suoi però, perché si è fatta una relazione. C'è chi ha la postazione per fare i film? Io voglio lanciare quello di Karan. Michele Daniello! Ehi, il Pitanieci! Michele 10, grazie! Per le 16, grazie! Michele Daniello! 16, grazie! Questo è il ragazzo che mi ha fatto dannare di più durante la stagione. Karan, discorda Karan! Un ragazzino, un ragazzino sotto tutti i punti di vista, che sta diventando uomo. Il 10, se lo sta quasi, 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 quasi. Am about to get so. Am go! D'Angelo, Nicolò.... Am dobbiamo fare lo stesso! D'Angelo Nicolò! D'angelo, Nicolò... E la frase è quasi d'obbligo, ora ha capito che si gioca in utici e non a cinque, quindi ha fatto notevoli miglioramenti durante la stagione. E la frase è quasi d'obbligo, ora ha capito che si gioca in utico, ora ha capito che si gioca in utico, ora ha capito che si gioca in utico. E' un aspetto importante che io come istruttore di calcio, all'inizio dell'anno il papà ha detto ma non so se può venire tutti gli allenamenti, il ragazzo studia qui la Santa Maria. Io non so, voi non mi conoscete bene ma io ho dei ragazzi, dei vostri ragazzi, a 364 gradi li alleno, non soltanto dal punto di vista calcistico ma mi interesso di tutto, la scuola, di quello che succede anche nella faccia. Il ragazzo va a scuola qui da Santa Maria, usciva da scuola, scendola con un uomo a Castellanus, a volo, veniva a fare l'allenamento. Il servizio ha fatto questo ragazzo, durante la stagione l'ha premiato in un modo incredibile perché è diventato la calma e la saggezza del gruppo. La calma e la lentezza.